Uh, qualcuno si è svegliato di ottimo umore! Proprio così, perché oggi è un giorno speciale! Cosa c'è di tanto speciale? Oh, bella! Come se non lo sapessi! Forza! Diamo inizia alla festa! Bibi, non è prevista nessuna festa! Ho capito! Mi state facendo una sorpresa con stile! Mi piace! Vado via dalla stanza per un momento! Fallo per un decennio! Essere preso in giro nel mio giorno speciale! Un classico! Uno, due, la torta è nella stanza! Tre, quattro, cinque candele accese! Sei, sette, otto, cappelli indossati! Nove, dieci! Sono pronti! Ragazzi, non dovevate! Oh, vi serve più tempo? Ok, ritorno dopo! Oh, è incredibile! Wow! Non avreste dovuto! Piantala! Svolgiamo le attività in silenzio! Oh, caspita! Allora dovete avere dei grandi piani! Che c'è qui dentro? Ehi, ehi! Cosa stai facendo? Ho pensato che fosse un nascondiglio per un pacco con la carta colorata e un fiocco! Sai di che cosa parlo? Mi stai spaventando! Allerta, crimine! Che bel pretesto! Il crimine prevede una torta e una carta da regalo? No, si tratta di un branco di elefanti furiosi! Certo! Mentre voi vi occupate degli elefanti impazziti, vi aspetto qui per essere sorpreso! Come vuoi! Titans, go! Oh, si sono scordati del mio compleanno! 940 più di 120 primi sembrano! T-E-N-T-A-I-T-E-R-S-T! Chai Dance! Let's go!